Parti, bello! Vai! Sai cos'è un clacson di cortesia? È tipo così, leggero, amichevole. Vivo un periodo complicato. Se mi chiede scusa, zeriamo tutto. Guardi che io non ho niente di cui scusarmi, ha capito? Lei non sa cosa sia una brutta giornata. Ma che fa? Ora lo capirà. Quell'uomo mi ha rubato il telefono. Andy. Sono qui, ti sto aspettando. Di chi è questo telefono? Qui davanti il tuo amico. Stammi a sentire. Non è un amico, ok? È il pazzo che mi hai seguito oggi. Ora comincia la sua prima lezione. Mi dia il telefono. Oddio! Ma che cosa vuole? Voglio che lei impari a chiedere scusa. E vedrà che imparerà con la violenza e il castigo. Imparare le servirà. E vedrà che! Ma che vai per la violenza e il profno. Ma che vai per la violenza e il pazzo che non saraiキurato. Ma che vai per la violenza e il fiore sempre che vai per la violenza. Grazie a tutti.